E' possibile affrontare una curva con traiettorie diverse e quindi in maniera diversa? Al pneumatico, come a qualsiasi altro oggetto fisico, vengono applicate due forze, ovvero La forza di gravità che spinge il corpo verso il basso, massa per accelerazione di gravità E una normale che spinge verso l'alto Per chi non è pratico di fisica, questa forza normale sarà difficile da immaginare Spieghiamola con un esempio pratico, semplicissimo Immaginiamo che questo sia il pneumatico Poggiamo il corpo a terra La forza che lo manterrà al suolo è la forza normale che spinge verso l'alto Perché c'è? Perché se non ci fosse Il pneumatico sprofonderebbe negli abissi della terra Ecco perché tutti i corpi che poggiano su una superficie Hanno una forza normale opposta alla forza di gravità Perché quando dico forza di gravità scrivo m per g Spieghiamolo, non è un corso di fisica ma fa bene saperlo La forza di gravità di un oggetto è data dalla sua massa per l'accelerazione gravitazionale Ovviamente un oggetto più è pesante più avrà forza di gravità Perché aumenta la massa Essendo una moltiplicazione aumenta il risultato Quindi aumenta la forza Hai capito? Ce l'hai? Andiamo avanti Se no torni indietro, te lo riguardi e lo capisci Tanto è facilissimo Avendo adesso il quadro generale delle forze applicate al corpo Possiamo andare avanti e capire come entrano in gioco la forza centrifuga e la forza di attrito Che è il grip Il famoso grip che hai a terra Da cosa deriva? Tutti sappiamo che in curva la moto non è dritta ma è in piega In piega che significa che l'asse della ruota non è più ortogonale alla linea di terra Ma è inclinata di un tot di gradi a seconda della tua bravura Non ci interessa Può essere anche inclinato di poco Hai anche tu le forze in gioco Incliniamo quindi l'asse della ruota Ed ecco che compaiono La forza centrifuga E la forza di attrito Forza centrifuga va verso l'esterno curva Forza di attrito va interno curva Immaginiamo quindi la curva vista dall'alto è così Facile Andiamo un attimo giù in garage vicino all'XR per vedere dove agiscono le forze materialmente E capire dov'è il centro di massa Forza di attrito e forza normale agiscono sui punti di contatto della ruota Ma forza centrifuga e forza di gravità agiscono sul centro di massa Che non è altro che il centro del sistema moto-pilota Che in questo caso si troverebbe più o meno qui Ma se per esempio mi alzassi il centro di massa si alzerebbe con me Ecco il nostro Daft Punk in moto Capito cos'è il centro di massa? Quindi che non è nient'altro che il punto medio tra i pesi in gioco In questo caso moto e pilota Quindi bene o male il centro di massa è sulla moto Perché la moto è più pesante del pilota sicuramente Possiamo applicare le forze nel punto giusto Forza di gravità, forza centrifuga applicata al centro di massa Forza normale, forza di attrito applicata al punto di contatto della gomma Adesso sappiamo perché la moto deve piegare per andare in curva E non rimanere dritta Perché se rimanesse dritta Forza di gravità e forza normale si andrebbero a sovrapporre In questo modo scomparirebbero E l'effetto sarebbe questo Eccoci quindi al motivo per cui tutti state guardando questo video Non mentite Per andare veloce in curva Allora Primo argomento da trattare è senz'altro la traiettoria Scordatevi di poter percorrere una curva con una stessa traiettoria Se avete moto di generi differenti Se avete una moto super sportiva Come potrebbe essere quella del MotoGP Avrete una velocissima percorrenza di curva In caso opposto Invece se avete una moto tipo motard o tipo cross Addirittura Avrete una fortissima uscita di curva in accelerazione E dovrete sfruttarla in maniera diversa Quindi Per delle moto sportive Abbiamo una traiettoria molto più tonda Che quindi va a sfruttare la caratteristica della moto Che è la velocità in curva e in piega Mentre per una moto tipo motard o tipo cross Ancora di più Andremo ad utilizzare una traiettoria più spigolata E più chiusa Per andare a sfruttare Tutta l'accelerazione possibile del motore L'accelerazione del centrifugo Che è quella che ci interessa per andare forte in curva E veloce in curva A questa formula L'unica cosa che possiamo aumentare È la forza di attrito Per aumentare la forza di attrito Dovremmo controbilanciare E aumentare la forza di gravità Ma come si aumenta la forza di gravità? Come abbiamo visto prima La forza di gravità comprende due componenti L'accelerazione di gravità Che non la si può cambiare Se la riuscite a cambiare Ben venga Siete Dio L'altra cosa da poter cambiare E aumentare è la massa Ci sono vari modi per aumentare la massa Si può mangiare tantissimo prima di una curva Tirare su una zavorrina Prima della curva E quindi aumentare la massa Oppure avere il budget Della MotoGP Della Ducati Per progettare Per montare tutte le rette aerodinamiche E aumentare il carico Ma ovviamente La soluzione più semplice È quella di spostare il peso All'interno della curva Per aumentare la leva E aumentare così il nostro peso E di conseguenza A forza di attrito Ecco quindi che abbiamo trovato la soluzione Per aumentare la nostra velocità in curva Ovvero spostare il peso all'interno della curva Ma perché questo tipo di guida non è consigliabile su strada O comunque nelle situazioni normali? Immaginiamoci di incontrare un ostacolo per strada Che può essere una lastra di ghiaccio Che può essere una buca per strada Ecco che quindi la perdita di aderenza Ovvero la perdita di forza di attrito Ci fa perdere anche forza centrifuga E questa situazione non è delle migliori Immaginate queste due forze Che giovano in questo senso È tipo come essere sparati a terra Da The Rock Ai suoi tempi d'oro nel wrestling In questa situazione Quello che ci viene spontaneo da pensare È semplicemente spostare il centro di massa esterno curva In modo tale da bilanciare queste due forze E riportarle il più in asse possibile E lo facciamo spostando il busto all'esterno della curva Cercando di recuperare l'inclinazione della moto Detto questo va da sé che Avere un'impostazione completamente all'interno curva Ci renderà questa operazione molto più difficile Piuttosto che avere una impostazione di curva Già col busto all'esterno della curva E quindi già in fase di recupero Altra cosa da considerare di questo tipo di guida Utilizzato su strada È che ovviamente penalizza i veloci cambi di direzione Che potrebbero tornare utili ad esempio Per evitare un ostacolo imprevisto sulla strada Al contrario invece Una posizione di guida con il peso più centrale Ne agevola l'esecuzione Spostare il centro di massa all'esterno della curva Non è una cosa così inusuale Basta pensare a Marquez ad esempio Quando recupera le sue cadute in piega Praticamente dichiarate Spostando il suo centro di massa all'esterno della curva Ad esempio alzando il piede esterno dalla pedana E quindi spostando i pesi all'esterno della curva In effetti avendo tutto il peso interno curva Tutta la visuale esterno curva viene bloccata proprio dalla moto E dal mio corpo Mentre avendo una postura più dritta in curva Si ha una visuale completa Ecco detto questo Quindi diciamo di stare attenti a quando si piega Di andare un po' più calmi E soprattutto adesso che sappiamo tutte le regole della fisica Eh? Sì Ok questo è tutto Spero di essermi spiegato bene Spero di non aver detto troppe fesserie Altrimenti YouTube mi blocca Spero di non aver detto troppe fesserie Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Iscrivetevi Non ne farò uno a breve Perché ci vuole tantissimo tempo per realizzare un video del genere Però è molto divertente Quindi ne farò altri sicuramente Se avete qualche consiglio Su qualche argomento da trattare In questa maniera però Scrivetelo nei commenti E io ci studio sopra e ci preparo qualcosina Ciao